Allora, siamo soddisfatti dell'andamento stagione della 22, in linea con tutti gli altri parchi d'Italia. Contiamo di raggiungere entro fine anno, naturalmente, i risultati del 2019 con una percentuale di stranieri che supererà il 15%. Notizie positive vengono leggermente affuscate dall'aumento dei costi, a cominciare da quelli energetici pari al 200% e quelli per le materie prime. Complessivamente, quindi, noi notiamo un aumento del 40%. È per questo che abbiamo deciso di investire ulteriori 20 milioni di euro nel prossimo quinquennio per raggiungere addirittura un incremento occupazionale di un altro 20%. Per tutti questi motivi pensiamo che la politica e comunque le istituzioni ci possano essere vicini, sbloccando quei 20 milioni destinati per gli indennizi del 2021 e speriamo che Regione Lombardia trovi la soluzione per poterci dare una mano, soprattutto per poterci permettere questi ulteriori investimenti.